Dunque, buonasera, evito di fare la domanda fatidica, mi sentite perché so che coloro che dovrebbero rispondere no, ovviamente non sentono, e quindi mi stupisco sempre che la si faccia, però ho sentito che qualcuno ha reagito, quindi almeno qualcuno sente. Dunque, buonasera, grazie di essere qui, non voglio naturalmente portare via troppo tempo all'orchestra, anche perché sono memore di un evento che è successo qualche anno fa alla milanesiana, mi ricordo che forse la conoscete, è una manifestazione organizzata da Elisabetta Sgarbi, la quale, come dice il cognome, è la sorella di Vittorio Sgarbi e in famiglia hanno tutti dei caratterini, diciamo così, di un certo genere. E lei cerca sempre di mettere insieme, anche come succede questa sera, cose, diciamo così, tra virgolette, culturali, cioè conferenze, eccetera, con la musica. Solo che una sera fece forse un passo troppo lungo per la gamba, cioè decise di far fare delle conferenze della gente, tra cui c'era anch'io, prima di un concerto di Getro Tal, però poiché i Getro Tal erano una compagnia ancora molto famosa, era molti anni fa tra l'altro, ovviamente la gente che era venuta a sentirla aveva pagato fior di biglietti e arrivò Elisabetta Sgarbi, credendo di mantenere il, diciamo così, il contatto col pubblico, disse, ah, io lo so che voi siete venuti per sentire i Getro Tal, però prima vi dovete sorbire un po' di gente che viene a parlare, così via. Però naturalmente subito dal pubblico cominciarono a levarsi dei bù, eccetera, e lei che non è abituata a questi confronti, a un certo punto ebbe un gesto di questo genere, così, rivolto verso il pubblico. Le pioveva addosso una serie di epiteti che evito di ripetere, perché insomma non erano carini in nessun modo, e noi naturalmente gelati per il fatto di dover adesso salire su questo palco e affrontare questo pubblico che sembrava di gladiatori, che invece aspettava il Getro Tal. E mi ricordo c'erano varie persone, per esempio c'era Scurati, che poi prese qualche anno fa il premio strega, all'epoca era meno noto, e aveva preparato un racconto di una ventina di minuti che lesse in 3-4 minuti, così velocissimamente. Io salì, feci un saluto al pubblico e me ne andai senza dire nulla, intanto era inutile stare a combattere. E c'era quella sera un premio Nobel, no? Della fisica che si chiamava Loffling. E mi ricordo che era seduto vicino a me e dice, tranquillo, che io sono abituato con la gente, no? Così, aveva tutti i suoi fogli, no? Quindi se ne andò tronfio del suo titolo di premio Nobel, salì sul palco, era l'ultimo di quelli che dovevamo parlare, fu anche lui assalito, diciamo così, da insulti, eccetera, presi questi fogli, li buttò giù così, no? E alla fine ce ne andammo tutti con la coda fra le gambe. Questo è per dire che sarò molto breve, no? E vi lascio poi subito per, o meglio, perlomeno per i miei standard, che non vuol dire che dovete essere così felici, di, ah, temevate che, no? Come ieri sera, per esempio, a Monte del Lago, dove credo di averla tirata per due ore e un quarto, eccetera. Questa sera prometto che non sarà così. Dunque, però non è facile venire a parlare ovviamente di matematica e qualunque altra cosa sia, quell'è. Quando dopo poi ci sarà la musica? Sappiamo che la musica è una cosa molto diversa, fa parte di quello che si chiama l'umanesimo, la cultura umanistica, ed è tra tutte le arti probabilmente quella più istintiva, nel senso che la si sente attraverso un organo, mentre la lettura, per esempio, bisogna ovviamente essere alfabetizzati per poter leggere. Oddio, se qualcun altro legge per noi, poi naturalmente possiamo, adesso con i podcast, per esempio, possiamo evitare di leggere i libri che sono stati scritti se qualcun altro cioè lo legge. Ma la musica non passa nemmeno attraverso le parole, quindi non richiede riconoscere la lingua in cui è scritto il libro che viene appunto letto, è qualche cosa che va direttamente al, diciamo così, al cervello o se uno vuole essere romantico al cuore, anche se poi non è lì che va, naturalmente, quello che si sente. Mentre la matematica è l'esatto contrario. La matematica viene considerata qualche cosa di lontano addirittura dall'uomo. Ci sono molti filosofi che pensano che effettivamente il pensiero scientifico in generale e il pensiero matematico e razionale in particolare siano qualche cosa di, se non inumano, di disumano, di qualcosa che allontana dall'umanità. Mentre invece le arti, sostengono appunto alcuni, sono l'esatto contrario. Io sono qua questa sera appunto con il difficile compito di parlare di queste relazioni pericolose tra la matematica e l'umanesimo. Io comincerai subito dalla musica, visto che dopo la sentiremo direttamente in pratica, però la musica sorprendentemente, dopo tutto quello che ho detto come introduzione, è forse invece l'arte, la arte, che è più vicina alla matematica. O dimostra il fatto che i legami tra la matematica e la musica sono agli inizi addirittura di quello che è la cultura occidentale. Partono, ho detto occidentale perché naturalmente quello di cui parlerò questa sera, benché la matematica sia un'impresa universale, la matematica è uguale dovunque in tutto il mondo e tra l'altro anche se noi siamo eurocentrici, ci piace pensare che di essere all'origine di tutte le cose perlomeno culturali, in realtà molti grandi teoremi, il teorema di Pitagora per esempio, tanto per dirne uno, sono stati scoperti in tempi diversi e in luoghi diversi indipendentemente dagli assiero-babilonesi, in India, in Cina e così via. Questo è il bello della matematica, di essere per l'appunto un'impresa universale, mentre le arti sono esattamente il contrario. La nostra letteratura è nostra, naturalmente è molto difficile conoscere le letterature di altri popoli perché appunto bisogna conoscere la loro lingua, se non conosciamo la loro lingua bisogna tradurla nella nostra e questo è sempre difficile, spesso impossibile, soprattutto quando il suono delle parole ha un'importanza o addirittura a volte una preponderanza sul contenuto, come è per esempio nella poesia. Chi di voi per esempio è stato, non so, in Inghilterra o in America ha provato a sfogliare una traduzione di Dante conoscendo magari i versi a memoria, per esempio i primi della Divina Commedia, si è subito accorto che c'è un abisso tra quello che anche magari un grande traduttore può fare e quello che invece era l'originale. Quindi le arti sono paradossalmente molto legate invece ai tempi e ai luoghi, cioè alla storia, al momento storico e alla geografia dove ci si trova. Invece però dicevo la matematica e la musica in Occidente, per questo ho fatto questa breve parentesi per sottolineare che sto parlando della nostra cultura qui occidentale, sono legate fin dagli inizi e gli inizi sono circa 2500 anni fa, perché appena citato adesso il nome di Pitagora, tutti conoscono il teorema di Pitagora, ma forse pochi sanno che in realtà, a parte che sappiamo poco di Pitagora, non sappiamo nemmeno se poi effettivamente sia mai esistito, perché è un mito, le biografie di Pitagora, i Vangeli pitagorici, diciamo così, primo fra tutti quello di Giamblico, risalgono otto secoli dopo la sua supposta esistenza, risalgono al 300 della nostra era, non al 500 prima della nostra era e potete immaginare che biografie scritte 800 anni dopo la vita di questi personaggi possono essere poco credibili, tra l'altro quando uno li legge questi Vangeli pitagorici fanno la stessa impressione che fanno altri Vangeli, cioè che uno insomma dubita che le cose che sono scritte siano tutte vere, dubita anche che ce ne sia qualcuna di vera, ma questa è una posizione forse eccessiva, ma per esempio un famoso episodio che viene raccontato di Pitagora in una di queste biografie è che i suoi allievi lo seguirono una mattina mentre lui andava al fiume a lavarsi e qualcuno testimoniò che quando Pitagora arrivò vicino al fiume, il fiume gli disse ciao Pitagora. Ora, vabbè, dipende quanto uno è disposto a credere a queste cose, che comunque fanno la stessa impressione di quelle che si raccontano di altri profeti, ma adesso stasera non voglio parlare di quelle cose perché ho già sviscerato l'argomento ieri sera in un luogo non lontano da qua. Ma dicevo, a parte l'esistenza fisica e reale di Pitagora, sicuramente c'è stata una scuola pitagorica, voi potrete chiedervi come si può essere il pitagorismo senza Pitagora, chiedetevelo di altre cose e magari vedrete che spesso i profeti sono immaginari, però ci sono i loro seguaci. I pitagorici sicuramente scoprirono in occidente il teorema di Pitagora che era stato scoperto almeno tre secoli prima in India da un signore che si chiama Baudayana che noi non conosciamo perché appunto non ci interessiamo di quello che è la storia della scienza in altri luoghi. Ma comunque, ma quello che ci raccontano queste vite di Pitagora, benché arrivi in otto secoli dopo la sua appunto supposta esistenza, è che il pensiero pitagorico è nato perché Pitagora scoprì, o chi per esso diciamo, qualcuno dei pitagorici, probabilmente Archita di Taranto è colui al quale poi viene storicamente attribuita questa scoperta, scoprirono che c'è uno strettissimo legame fra la matematica e la musica, in che modo? Purtroppo qui ci sono delle sedie vuote, ma se ci fosse almeno qualcuna di queste sedie piene, cioè ci fosse uno, un musicista che suona uno strumento ad arco e sappiamo che stasera ci sarà poi un violinista tra l'altro come solista, beh gli strumenti ad arco sono fatti, producono suoni sfregando in qualche modo o sollecitando in qualche modo delle corde che vibrano. All'epoca erano nervi di bue, adesso non so con quali strumenti, con quali materiali vengano fatte, ma ci sono delle corde tese che vengono pizzicate, come si dice in gergo, e risuonano e producono un suono. Pitagora scoprì questa cosa interessante, che ci sono dei rapporti fra le lunghezze di queste corde e le altezze dei suoni che vengono suonati. Per dirla breve, se voi prendete una corda, per esempio appunto di violino, di chitarra, eccetera, la corda soltanto la pizzicate, sentite un suono, se poi dimezzate la lunghezza di questa corda sentite lo stesso suono, però un'ottava superiore, la stessa distanza che c'è per esempio fra un do e il do consecutivo. Se invece di dividere la corda a metà, la dividete in tre parti e poi suonate due terzi, allora lì sentite un suono diverso, che però è di nuovo riconoscibile perlomeno dai musicisti, ed è quello che si chiama l'intervallo di quinta, cioè un do e il sol consecutivo. Se invece dividete la corda in quattro parti, prendete tre quarti, sentite un altro suono che è il fa, ed è la quarta. Quindi cominciamo a vedere che i numeri naturali, che sono i primi numeri naturali, uno, due, tre, quattro, quando li si mettono in rapporto fra di loro, due su uno, tre su due, quattro su tre, producono degli intervalli che in realtà corrispondono a cose che i musicisti chiamano intervalli armonici, cioè l'ottava, la quinta, la quarta e così via. E questa scoperta sembra essere stata la scintilla, diciamo così, che ha scatenato poi il pensiero pitagorico, perché una volta che uno scopre che questi primi numeri della progressione numerica corrispondono a delle cose completamente diverse, che sono i suoni, allora si può creare una filosofia, e qui si vede che addirittura arriva il legame non soltanto con la musica e la matematica, ma addirittura con la filosofia e la matematica, e dicevo qual è il legame? Il legame è che i pitagorici dissero, ma le corde vibranti, ma poi naturalmente non ci sono soltanto strumenti ad arco, laggiù per esempio mentre aspettavo vedevo che c'erano i timpani, i tamburi eccetera, quelli sono strumenti a percussione, quindi l'orchestra è fatta di tanti tipi di strumenti che producono diversi suoni, e ciascuno di questi suoni viene prodotto appunto con corde di una certa lunghezza, con pelli di animali che vengono tirate e poi battute, che hanno una certa forma in genere circolare, ma si potrebbe fare anche in maniera diversa, che hanno una certa tensione e anche lì la tensione influisce sul suono che poi viene fuori da queste pelli, e questo è il mondo fisico però, le corde, i nervi di bue, le pelli degli animali tirati eccetera, è la fisica, e dall'altra parte invece c'è quindi un mondo fisico che si può immaginare che sia oggettivo, è lo stesso per tutti, noi siamo tante persone diverse però tutti a meno che non abbiamo qualche diciamo qualche malformazione per esempio nel nostro sistema sensoriale, oppure che ci siamo fatti qualche bicchierino di troppo, certe sostanze eccetera, e abbiamo distorto i nostri sensi, ma in condizioni normali noi pensiamo tutti di vedere il mondo nello stesso modo, quindi c'è una realtà oggettiva, oggettiva e fisica. E dall'altra parte invece c'è la musica che è una cosa completamente diversa, anzitutto soggettiva perché le persone diverse reagiscono agli stessi suoni in maniera molto diversa, a qualcuno una musica può fare un effetto positivo per esempio, ad un altro può farlo negativo e ci sono qualcuno un effetto più forte e ad un altro un effetto più debole, è una cosa soggettiva. Notate che la parola musica per noi è semplicemente quello che si sente con le orecchie, l'acustica dovremmo dirlo se volessimo usare dei termini greci, perché il termine musica deriva ovviamente dalle muse, e musiche per i greci era tutto ciò che le muse proteggevano, non era soltanto l'acustica, ma erano tutte le arti, quindi l'idea dei greci era da una parte c'è la natura oggettiva, dall'altra parte ci sono le arti, l'umanesimo potremmo dire soggettivo, e questi due mondi a prima vista sono completamente separati, perché appunto l'oggettività e la soggettività sono due modi diversi e addirittura Benedetto Croce per esempio o Giovanni Gentile quando fecero la riforma, stavo cercando di dare un aggettivo che fosse denigratorio ma non troppo a questa riforma che venne fatta soprattutto da Gentile, nel 1923, il prossimo anno sarà un secolo di questa riforma Gentile della scuola, l'idea di questi due filosofi, che erano due filosofi idealisti, era che questi due mondi dovevano essere tenuti completamente separati, il mondo della fisica che poi in qualche modo si approccia attraverso la tecnica doveva essere oggetto di studio di coloro che nel futuro sarebbero andati a lavorare e quelli avrebbero dovuto studiare negli istituti tecnici e invece il mondo soggettivo delle arti dell'umanesimo avrebbe dovuto essere il soggetto di studio di coloro che invece sarebbero andati a governare e a comandare la classe dirigente e quelli avrebbero dovuto fare il liceo, in origine doveva esserci un solo liceo quello che sarebbe stato il liceo classico, poi persino Croce e Gentile si erano accorti che il mondo stava cambiando, che forse la scienza serviva anche a qualche cosa, anche a loro tra l'altro, per vivere nel mondo moderno e quindi immaginarono anche un liceo scientifico che era una specie di ibrido, qualcosa a metà tra gli istituti tecnici e il liceo classico che doveva essere il coronamento degli studi classici e però l'idea era di tenerli separati, talmente separati che coloro che facevano gli istituti tecnici non potevano accedere all'università se non all'università che competeva loro, per esempio i geometri potevano fare ingegneria, architettura, i chimici, i periti chimici potevano fare chimica e così via, ma solo quello, mentre invece i liceali potevano andare in qualunque facoltà, non sapendo nulla potevano poi decidere in seguito di imparare qualche cosa, ma l'idea era di tenerli separati queste cose, questa è la modernità, l'idea balzana di Croce e Gentile che poi rimane tutt'ora perché noi continuiamo ad avere quel sistema che è stato scalfito soltanto dalle riforme recenti di qualche decennio fa della ministra Gelmini e anche di altre ministre che poi per qualche motivo finirono tutte mini o ini e in realtà le riforme che sono state fatte andavano poi a incidere sui professori, sulla sistemazione dei precari per esempio nella scuola, ma mai sull'impianto scolastico, su cosa bisognasse studiare e come, ma questa è una parentesi, mentre invece i pitagorici avevano un'idea completamente diversa da Croce e Gentile, cioè che questi due mondi, la natura, la tecnica che poi studia la natura e l'umanesimo dovessero essere due cose in qualche modo collegate da che cose, qui arriva il centro del discorso che facciamo questa sera, collegati dalla matematica perché erano proprio quei numeri uno, due, tre, quattro che di per sé non significano nulla, sono numeri astratti e uno li studia o li contempla diciamo così in quanto numeri, poi però quando li applica al mondo fisico allora quelli diventano per esempio i rapporti fra le lunghezze delle corde che vengono tese e pizzicate da una parte, quindi misurano delle quantità fisiche e dall'altra parte invece diventano l'espressione di intervalli musicali come l'ottava, la quinta, la quarta e così via. E allora Pitagora dice, beh, allora vuol dire che la matematica è un ponte, è un ponte che collega la fisica, fisica intesa nel senso greco, lo studio della natura e l'umanesimo, la musica intesa di nuovo nel senso greco, cioè le arti. E allora da quel punto di vista lì l'idea di Pitagora si traduce poi in un motto che tutto è numero, perché all'epoca la matematica per lui era quello, anche la geometria lui la faceva attraverso i numeri, per esempio i quadrati li faceva attraverso numeri che esprimeva o descriveva attraverso palline, quindi per esempio il numero quattro metteva quattro palline disposte a quadrato, il numero nove, nove palline disposte a quadrato di nuovo, tre, 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 no? E ancora oggi noi chiamiamo quei numeri lì, quattro, nove, sedici, venticinque, eccetera, li chiamiamo quadrati perché Pitagora guardava la geometria attraverso i numeri. Per lui i numeri erano il centro delle cose e non soltanto erano anche il centro del pensiero, come collegamento tra la fisica e l'umanesimo. E dicevo il motto è tutto è numero. Poi però uno dice attenzione perché non sono i numeri interi quelli che esprimono sia i rapporti tra le corde, sia i rapporti tra le note. Bensì sono i rapporti tra i numeri, due su uno, tre su due, quattro su tre, sono quelli che noi chiamiamo le frazioni. Ma da dove deriva frazione? Beh, frazione deriva da razio, no? E razio è una parola ovviamente latina, no? Che si traduce da noi con frazione per l'appunto, però in greco la si diceva in una maniera molto diversa, la si chiamava logos. Il logos era il rapporto e poi quella era una parola che naturalmente aveva molti significati, poteva significare il pensiero, il linguaggio eccetera, ma in particolare in questo tipo di discorso significava il rapporto fra i numeri. E allora i numeri che sono rapporti di due numeri interi, tre su due, quattro su tre eccetera, venivano chiamati appunto logoi, cioè i rapporti razionali li chiameremmo oggi noi. E allora il motto diventa tutto e numero razionale e poi volendo uno lascia cadere la parola numero e il motto diventa finalmente tutto e razionale. Cioè l'idea del pitagorismo partita appunto dall'osservazione della matematica nello studio della natura o nello studio dell'umanesimo diventa l'espressione di una filosofia razionalista. La ragione a quel punto incomincia ad avere un significato metaforico molto più ampio di quello che era semplicemente il significato letterale, rapporto fra due numeri interi, diventa l'espressione di un pensiero razionale e l'idea è tutto il mondo è razionale, attraverso la ragione noi possiamo capire il mondo che ci sta attorno da una parte e ciò che ci sta dentro invece, l'umanesimo dall'altra. E tutto questo partito dalla musica. Naturalmente volendo potrei andare avanti tutta la sera a parlare dei rapporti tra la matematica e la musica. Prima perché Pitagoro o i pitagorici non si permanano lì, finora vi ho detto soltanto i rapporti che corrispondono a tre note, cioè alfa, quattro terzi, al sol, tre mezzi, e al do successivo, cioè due su uno, cioè due. Ma ci sono tutte le altre note della scala, perlomeno della scala eptatonica a sette toni, cioè c'è re, il mi, poi fa sol l'abbiamo detto, il la, il si eccetera. Come si fa ad associare a quelle note lì dei numeri? E Pitagoro incomincia e dice, beh per esempio per associare un numero al re come si fa? Beh per esempio se io faccio due quinte e salgo prima dal do al sol e poi faccio di nuovo una quinta dal sol a una nota successiva, quella nota successiva è il re dopo il do che 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 arriva dopo un'ottava, quindi due quinte messe insieme producono un'ottava più una nota e però notate che lui aggiunge due quinte e dice come si fa a fare dei numeri che corrispondano a questa operazione di aggiungere musicalmente degli intervalli? Beh i numeri si moltiplicano e qui è una cosa strabiliante perché se uno lo guarda col senno di poi Pitagora praticamente capisce che il rapporto tra i numeri che descrivono la musica e la musica stessa è un rapporto logaritmico, cioè le corde si diminuiscono in lunghezza in maniera logaritmica e quando i numeri vengono semplicemente moltiplicati o divisi fra loro. Voi direte non si è capito nulla, qui purtroppo stasera non vedo un pianoforte ma comunque non sarei riuscito ad alzarlo per farvelo vedere, ma se voi guardate come è fatto il pianoforte vi siete mai chiesti perché il pianoforte non è rettangolare? Cioè uno dice ma è fatto un pianoforte per quale motivo non lo faccio rettangolare? Perché il pianoforte è fatto semplicemente in base alle lunghezze delle corde che vengono man mano associate ai vari tasti del pianoforte. Uno potrebbe dire se non è rettangolare dovrebbe essere triangolare semplicemente, ma il problema è che le corde non crescono in maniera lineare bensì crescono in maniera logaritmica da una parte o esponenziale dall'altra. Io non vado molto oltre in questa direzione anche perché la cosa diventa tecnica, però cominciate a capire che la matematica forse con la musica ha molto a che fare, ha a che fare col modo in cui i violinisti appunto o i contrabassisti suonano i loro strumenti, gli strumenti a percussione nello stesso modo, ha a che fare col modo con cui sono fatti i pianoforti e potrei continuare a fare questi legami arrivando fino al giorno d'oggi perché ancora oggi in realtà la matematica e la musica sono state legate moltissimo e l'ultima innovazione che c'è stata è stata una cinquantina di anni fa quando sono arrivati gli strumenti elettronici, gli strumenti elettronici che in realtà permettono di fare dei suoni puri come nessuno di noi riesce a fare perché la voce umana per esempio ma anche le voci, i suoni degli strumenti che noi sentiamo, i suoni naturali, sono suoni molto complessi. Oggi è facile capire queste cose perché basta accendere un computer, avere un microfono davanti al computer e usare uno di quei programmi che vi fanno vedere l'immagine matematica dei suoni che voi fate e vi accorgete che non è mai un'immagine molto semplice, soltanto una curva fatta così senza gobbe, qualunque uno dice semplicemente ah e vede delle strane montagne e valli che salgono e scendono e come mai? E beh si è scoperto che appunto i suoni naturali non sono suoni puri, suoni puri sono quelli che fanno strumenti molto particolari come quelle forchette che qualcuno di voi avrà visto ogni tanto che si chiamano diapason che vengono battute semplicemente e allora un diapason effettivamente se lo mettete di fronte a un computer fa una curva che è una curva molto matematica e che si chiama semplicemente seno o coseno, è una di quelle curve trigonometriche che ci insegnano a scuola. Qual è il nome fra questi suoni puri che sono prodotti dai diapason e questi suoni impuri invece che sono prodotti da tutto il resto nella natura, cioè la voce umana, i rumori della natura, gli strumenti musicali eccetera? Uno potrebbe dire beh qui arriviamo il mondo razionale, quello che si può descrivere attraverso la matematica e una semplicemente una caricatura del mondo naturale. Eppure nell'ottocento arriva un signore che si chiama Fourier il quale dice ma secondo me invece si potrebbe ridurre tutto semplicemente a dei diapason se noi invece di avere questa sera un'orchestra in cui ci sono tanti strumenti diversi, violino, violoncello, la viola, il contrabbasso, appunto i timpani eccetera, avessimo soltanto dei diapason di varie dimensioni più o meno grandi e li suonassimo insieme in maniera accordata uno con l'altro potremmo riprodurre i suoni di qualunque genere. E agli inizi naturalmente Fourier fu preso per matto perché dice come si fa quando ci sono delle curve molto complicate, per esempio una curva fatta semplicemente così, a scalino, un triangolo che sale e scende, come si fa a farla attraverso delle curve che sono ondulate come quelle dei diapason. Eppure invece quella che oggi si chiama l'analisi di Fourier e che chi ha studiato matematica un po' più superiore, probabilmente chi ha fatto ingegneria per esempio o certi istituti tecnici sa appunto di cosa parla, eppure l'idea è proprio questa, si può ridurre qualunque suono a una somma di questi diapason, di queste funzioni ondulatorie e il motivo per cui ne ho accennato è semplicemente perché queste funzioni ondulatorie oggi non si fanno più con i diapason come una volta che si battevano appunto con la bacchettina, bensì si fanno con questi sintetizzatori elettronici ciascuno degli elementi del quale produce uno di questi suoni. E infatti con i sintetizzatori oggi chi di voi ci ha giocato magari o chi l'ha sentito nelle orchestre di musica elettronica sa che i sintetizzatori possono fare musica, riprodurre suoni di qualunque genere, possono suonare come un organo da chiesa, possono riprodurre il canto di un uccello e così via. E tutto questo è possibile perché Fourier ha scoperto questa decomposizione dei suoni naturali in suoni artificiali appunto suoni innaturali come questi dei diapason. Questo per dire appunto quanta matematica ci sia nella musica e viceversa quanto della musica abbia poi ispirato intere teorie della matematica. Un altro esempio che potrei fare che accenno soltanto perché probabilmente qualcuno di voi l'ha sentito parlare sono le cosiddette equazioni d'onda. Ho accennato a queste onde che vibrano così. Se voi prendete una corda questa volta e la attaccate al muro, una corda anche non da violino o da chitarra ma una corda qualunque, l'attaccate al muro e la tendete e poi la fate semplicemente vibrare. Vedete che questa incomincia a vibrare con un moto ondulatorio, arriva al muro e poi rimbalza indietro e ritorna indietro. Naturalmente si può farla vibrare in varie maniere più velocemente o più lentamente e queste vibrazioni possono avere lunghezze maggiori o minori e ad un certo punto nel Settecento qualcuno si è posto il problema di dire ma come si farà a descrivere attraverso un'equazione matematica il moto di una corda che vibra. E la prima equazione di questo genere che si chiama appunto equazione d'onda fu scoperta da un signore che si chiama D'Alembert che molti di voi avranno sentito nominare per motivi completamente diversi, per motivi umanistici e non per motivi scientifici perché D'Alembert ero uno dei due editori diciamo o curatori di quello che divenne una delle imprese fondamentali della modernità cioè l'enciclopedia delle arti e dei mestieri che era curata da Diderot e D'Alembert per l'appunto. D'Alembert era uno scrittore, un filosofo, D'Alembert era anche lui un filosofo ma soprattutto un matematico e fu il primo che scrisse un'equazione d'onda proprio per per cercare di capire come muovono le corde che vibrano o quando le facciamo vibrare semplicemente se sono corde nel senso usuale della parola oppure quando vibrano le corde degli strumenti a corda. Oggi poi di equazioni d'onda se ne conoscono moltissime la più famosa delle quali è quella di Schrödinger, è un'equazione che è analoga a quella di D'Alembert benché diversa e questa volta però descrive le vibrazioni di altre cose che non sono cose fisiche macroscopiche come quelle di cui abbiamo parlato finora bensì cose fisiche microscopiche e sono in realtà i movimenti che fanno per esempio gli elettroni o le particelle elementari anche quelli sono lì che vibrano e vengono descritti da equazioni che sono equazioni simili a quelle della musica. Quindi il legame tra la musica e la matematica è strettissimo. Però appunto per parlare anche di altre arti, di non continuare a chiamare musica soltanto quella che invece si dovrebbe più letteralmente chiamare acustica, ho accennato per esempio adesso al fatto che Diderot era in realtà uno scrittore. Voi direte ma nella letteratura ad esempio c'è la possibilità di legare la matematica alla letteratura. Probabilmente molti di voi leggono o hanno letto romanzi di ogni genere e se pensate nella vostra memoria direte non ho mai visto dei pezzi di matematica in opere letterarie a meno magari certo di andare a leggere l'opera scritta da un matematico in pensione che si è dilettato a scrivere romanzi eccetera. Eppure invece se uno va a scavare oppure se si accorge che magari ha letto delle opere letterarie ed è passato senza manco accorgersene su pezzi di matematica, se uno va a scavare dicevo ne scopre moltissime. Tanto per fare un esempio tra tutti prendiamo il più bel romanzo che è stato mai scritto naturalmente il romanzo è un'impresa molto occidentale perché soprattutto in Europa negli ultimi secoli e poi anche nel mondo occidentale che si è usata questa forma per raccontare le storie. In altri tempi e in altri luoghi ci sono cose che si chiamano romanzi per esempio in Cina, il sogno della camera rossa ad esempio o tanti altri ma in realtà non sono romanzi nel senso come li intendiamo noi. Quella è una nostra forma. E in occidente si pensa che il più grande romanzo che sia mai stato scritto sia Guerra e Pace che molti di voi avranno letto o avranno almeno soppesato perché insomma leggere Guerra e Pace richiede anche una certa forza fisica se stampato in un unico volume perché sono circa 1500 pagine e non so quanti di voi siano arrivati alla fine di Guerra e Pace perché questa è la cosa interessante ma già anche a metà ogni tanto lui incomincia, lui sarebbe Tolstoi lo scrittore, incomincia a usare la matematica in una maniera che spesso credo a coloro che leggono il romanzo e che vengono trascinati dagli eventi che sono appunto eventi di ogni genere, c'è la guerra, ci sono le battaglie, ci sono gli amori che nascono e che muoiono esattamente come le persone, però Tolstoi quando deve descrivere le battaglie spesso usa delle metafore che a coloro che sono addestrati a questo linguaggio capiscono, fanno subito venire in mente le cose che Tolstoi sta cercando di dire, per esempio dice quando due eserciti si incontrano, si scontrano in realtà secondo la legge di azione e reazione, vengono respinti secondo la legge di azione e reazione di Newton, ma ancora peggio perché Tolstoi era uno che sapeva parecchio di matematica anche per un motivo pratico, lui aveva, era un conte, aveva una grande tenuta vicino a Mosca, a Jasna e a Poliana, circa 200 km da Mosca, dove in realtà si dilettava a fare da maestro ai figli delle contadine, molti di quei figli erano suoi tra l'altro, fatti appunto con le contadine in giro, col grande disdegno della moglie, lui sposò la moglie ovviamente perché altrimenti non sarebbe stata sua moglie, ma la sera del matrimonio diede alla moglie il suo diario e gli disse to, leggilo e sappi chi hai sposato, ormai era tardi quindi si era già sposata la signora e si racconta appunto che la moglie di Tolstoi fu traumatizzata dal vedere che tipo di marito non si era trovato, lui continuò per tutta la vita, era un uomo tra l'altro con un estremo vigore fisico, si racconta che quando l'ombroso che voi conoscete aveva quest'idea che si potevano vedere le personalità e anche un po' le malattie delle persone guardando la loro fisionomia, ad un certo punto si era messo in testa che Tolstoi doveva essere un po' matto e che quindi lui voleva studiarlo come medico e andò a Jasna Napoliana a trovarlo e poi scrisse un libro, un libriccino in cui racconta la sua esperienza dice quando sono andato a trovare Tolstoi, Tolstoi sapeva che l'ombroso veniva a trovarlo più che altro per studiarlo come un fenomeno da circo e non gli diede tregua perché incominciò lo fece giocare a tennis, poi lo fece nuotare, poi lo fece andare a cavallo questo alla fine della sera era moribondo, non stava più in piedi e Tolstoi ancora se ne andò a fare un giretto dice che devo andare a fare un lavoretto nelle campagne, produrre un altro figlio e così via ma questo era il motivo per cui Tolstoi in realtà queste cose le sapeva perché era un intellettuale come ce n'erano di una volta, certo scriveva romanzi, leggeva libri di letteratura ma sapeva anche molte cose di fisica e per esempio in uno dei suoi grandi racconti che si chiama La morte di Ivani Litch che molti di voi avranno letto che è la morte di questo signore che sta appunto sul letto agonizzante e più volte durante il racconto si sente questo peso che sta cadendo e lui ad un certo punto dice sentiva cadere questa pietra su di lui con un'attrazione, con una forza che cresceva in maniera inversamente proporzionale al quadrato della distanza dalla morte ora questa è una forma un po' strana della legge di Newton ma c'è questa proporzione inversa al quadrato che è quella della gravitazione universale quindi Tostoi era conscio di queste cose qui, era conscio della legge del pendolo per esempio racconta e dice che la grande guerra, voi sapete che guerra e pace come dice il titolo è soprattutto sulle guerre napoleoniche quando i francesi invasero Napoleone, invasero la Russia prima nel 1805 e poi nel 1812 ed è soprattutto sul 1812 che lui si concentra perlomeno nella seconda stesura del romanzo quella che noi leggiamo in libro perché la prima uscì a puntate sui giornali e parlava più che altro della prima parte del 1805 ma soprattutto nel 1812 e lui dice che cos'era l'esercito napoleonico era come un pendolo che si era alzato al momento della rivoluzione francese 1789 era un pendolo lasciato lì in alto c'era una mano che lo teneva fermo e questa mano aspettava soltanto di aprirsi per lasciare cadere questo pendolo e quando è che si aprì questa mano? si aprì quando arrivò Napoleone e quando decise appunto Napoleone di invadere la Russia e cosa fa questo pendolo? viene lasciato cadere e lui dice segue la legge del pendolo scende giù e ad un certo punto che cosa fa il pendolo? beh la legge del pendolo dice che arriva fino al punto alla stessa altezza da cui era partito perlomeno se non c'è attrito e allora parte da Parigi e l'esercito francese entra dentro la Russia e arriva fino a Mostra come? beh questa è una buona parte di guerra e pace l'esercito francese quando attraverso i confini era fatto da 500.000 persone 500.000 uomini che sono entrati dentro il suolo la madre Russia e che cosa hanno trovato? non hanno trovato niente perché i russi avevano deciso dice venite venite dice prego noi ci arretriamo e scappiamo piano piano l'esercito russo non combatte si indietreggia semplicemente i francesi avanzano però avanzano arrivano nei villaggi e i villaggi li trovano come? bruciati i campi sono bruciati l'espressione fare terra bruciata deriva appunto di lì questa è la tattica che il maresciallo Kutuzov che è uno dei protagonisti di guerra e pace decide di seguire e si fa terra bruciata per l'appunto perché allora questi si si avanzano però di cosa hanno da mangiare nei campi non c'è più nulla nelle città non è rimasto nessuna persona e arrivano facilmente in poche settimane fino a Mosca entrano dentro Mosca e Mosca è deserta e Napoleone comincia a dire ma adesso a chi devo far firmare il trattato di resa? non c'è nessuno perché tutti sono andati via non c'è lo zar non ci sono i militari e Napoleone rimane lì per qualche tempo e capisce di essere stato giocato dice sta arrivando l'inverno sta arrivando il freddo il generale inverno come verrà chiamato e lui ha conquistato un paese che non c'è e non può fare nulla e allora decide il grande eroe di fare che cosa? di tornarsene indietro scappa Napoleone l'eroe e se ne va via con la sua guardia di qualche migliaio di uomini e abbandona l'esercito che era arrivato a fine Russia e a questo punto l'esercito Tolstoi lo racconta come un alveare a cui è stata tolta l'ape regina non sa più a chi obbedire gli ordini le api se ne vanno ciascuno per conto suo e a quel punto anche i soldati decidono di tornare indietro e il pendolo che era arrivato da quella parte lì dice ritorna esattamente secondo la legge del pendolo dall'altra parte i francesi scappano e questa volta i russi li inseguono e quindi incominciano a dare battaglia e arriveranno poi al confine i francesi di quei 500.000 che erano entrati ne usciranno 30.000 gli altri 470.000 rimarranno sul suolo francese e la cosa poi continuerà perché ovviamente dall'altra parte a simmetrica distanza e posizione da Napoleone c'è l'altro eroe che è Alessandro I lo zar di Russia e lo zar a un certo punto arriverà poi lui anche a Parigi esattamente come le leggi del pendolo dice Tolstoi avevano deciso il pendolo parte arriva dall'altra parte alla stessa altezza e poi ritorna esattamente dove era partito solo che questa volta ci arriva Alessandro e Napoleone poi ovviamente nel giro di pochi anni sarà defenestrato dal potere vedete quanta matematica c'è dentro guerra e pace che se uno non ci fa attenzione cioè in altre parole se uno non è un matematico che sta leggendo guerra e pace e ce ne frega perché la prende come semplicemente delle metafore ma se uno arriva fino alla fine di guerra e pace nelle ultime 200 pagine che l'editore implorava Tolstoi dire ma ne hai scritto 1300 hai detto quello che volevi lasciamo perdere finiamo punto fine dice no devo ancora dire una cosa e dice aggiunge le ultime 200 pagine che cosa sono questa parte finale di guerra e pace è una teoria matematica della storia perché Tolstoi dice io l'ho raccontato a lungo mi sono divertito a raccontarvi queste gesta di questi due personaggi Napoleone e Alessandro I però fate attenzione e questo è l'errore che invece i nostri giornalisti sia di carta stampata che di televisione non riescono mai a vedere loro continuano a fare quello che lui dice fate attenzione fate attenzione non è questo che dovrete fare non bisogna dice lui presentare la guerra come se fosse semplicemente lo scontro fra due condottieri perché altrimenti sarebbe un duello si sarebbero trovati Napoleone e Alessandro I su un ring si sarebbero presi a pugni o a sciabolate e la guerra sarebbe finita lì non è quello la guerra sono quei 500.000 francesi che entrano in Russia sono le migliaia le centinaia di migliaia di russi che scappano che hanno difficoltà perché bruciano i propri paesi i propri campi per lasciare per impedire che i francesi abbiano cibo da sfamarsi e così via allora dice la guerra è fatta da tutti questi personaggi e non bisogna appunto avere l'illusione ottica che ci siano solo i condottieri noi guardiamo la guerra in Ucraina se voi vedete per esempio i giornali come ne parlano è sempre Zelensi da una parte Biden Putin eccetera non è quella la guerra è una cosa molto più capillare e Tolstoi dice ciascuno dei soggetti degli individui che partecipano a questa guerra dà il suo contributo è chiaro che è un piccolo contributo però tutti questi piccoli contributi messi insieme sono quelli che determinano quello che succede durante la guerra e lui dice quanti sono questi questi signori beh abbiamo detto centinaia di migliaia è difficile quantificarli però si può usare in maniera metaforica un'espressione matematica che dà l'idea sono infiniti nel senso che non si possono contare i numeri finiti sono quelli che appartengono appunto alle cose che si possono contare e questi sono innumerevoli innumerevoli appunto come se fossero infiniti e ciascuno di loro dà un contributo quanto è grande questo è molto piccolo addirittura talmente piccolo che possiamo chiamarlo dice Tolstoi infinitesimo allora dice la guerra è una strana cosa cioè è un insieme di infiniti soggetti ciascuno dei quali dà un contributo infinitesimo e poi si chiede si fa la domanda ad un certo punto la tira lunga infatti come ho detto sono 200 pagine la teoria non è sua era di un amico matematico che gliel'ha suggerita a lui è piaciuto così tanto che appunto dice scrivo alcuna pagina ancora del mio romanzo e Tolstoi dice come si fanno a sommare infiniti contributi infinitesimi cioè mettere insieme fare una somma infinite i cui termini sono degli infinitesimi delle cose piccolissime lui dice ma i matematici ci hanno già pensato prima Leibniz Newton hanno inventato il calcolo infinitesimale non a caso c'è un'operazione dice Tolstoi che si chiama operazione di integrazione quella che viene indicata con una S oblunga che in realtà deriva da Leibniz e la notazione di Leibniz e allora Tolstoi dice semplicemente abbiamo trovato la definizione della storia la storia è l'integrale dei contributi degli infinitesimi contributi degli infiniti soggetti che hanno partecipato alle azioni belliche e questa è una cosa meravigliosa che sta dentro il miglior romanzo che si dice che sia mai stato scritto volendo ce ne sarebbero tantissimi altri Dostoevsky per esempio tanto per non far torta a nessuno noi parlare sempre soltanto di letteratura russa Dostoevsky ha scritto un libro che si chiama Il Giocatore Dostoevsky era un personaggio molto diverso da Tolstoi era malato era epilettico era anche un po' matto e così e soprattutto era uno che aveva il vizio del gioco e a un certo punto ha scritto un romanzo in pochissimi giorni in tre settimane dettandolo a una stenografa perché doveva riuscire a farlo entro la fine del mese altrimenti avrebbe perso i diritti di tutte le opere successive perché si era fatto prestare soldi per fare che cosa per fare quello che racconta nel romanzo cioè andare a giocare in Germania soprattutto alla roulette in questi posti in una città che nel romanzo diventa Roulettenburg la città delle roulette appunto tra l'altro la stenografa era una ragazza di vent'anni che gli era stata mandata dall'editore e dopo questo rapporto così intenso di queste tre settimane in cui lui scrisse il giocatore i due erano diventati così intimi diciamo così che si sono sposati e lei divenne la moglie di Dostoevsky la seconda moglie che la prima era morta e in questo romanzo il giocatore lui racconta e dice ma in fondo io non ho un'ossessione irrazionale perché io so che c'è un metodo per giocare alla roulette e vincere a ross e nero oppure a pari dispari e così via e qual è il metodo? Il metodo è un metodo matematico che effettivamente si chiama la martingala ben noto quando si studia statistica per esempio voi volete voi giocate per esempio appunto a ross e nero e puntate una certa somma e sapete che se vincete ricevete il doppio e naturalmente se perdete perdete quello che avete puntato puntate per esempio puntate sul rosso e naturalmente esce il nero e allora perdete ok dice punto di nuovo sul rosso ed esce di nuovo il nero perdete se voi continuate a puntare così alla fine perdete i soldi che avete ma lui dice ma si può evitare di perdere perché io la prima volta punto una certa somma per esempio non so 10 euro la seconda volta se ho perso non punto soltanto 10 euro perché se punto 10 euro e poi dopo vinco ottengo 20 euro e sono pari punto il doppio perché in quel modo lì mi rifaccio anche di quello che ho perso prima e ogni volta continuo a raddoppiare la posta e prima o poi uscirà il colore o il numero che volevo e allora a quel punto mi rifaccio anzi posso anche puntare di più del doppio magari punto tre volte in quel caso lì quando poi uscirà il numero che volevo e prima o poi naturalmente esce alla fine non solo mi rifaccio di tutto quello che ho puntato ma ci guadagno pure e naturalmente questo è vero è vero però a condizione che uno espliciti le ipotesi che ci stanno dietro che sono le ipotesi di questo che si chiama appunto il teorema della martingala che bisogna avere un tempo infinito cioè giocare un numero infinito di volte nel senso che non è detto che questo succede dopo dieci dopo venti dopo trenta volte adesso per esempio oggi mi ha chiamato un giornalista che ce l'aveva perché il super enalotto è già un po' di tempo che non esce e dice ma conviene giocare oppure uno certo c'è tempo infinito e soprattutto se ogni volta raddoppia la somma che sta puntando deve avere anche un capitale infinito allora certo se abbiamo un tempo infinito da giocare e un capitale infinito da scommettere prima o poi riusciamo a vincere in questo gioco ma naturalmente Dostoevsky non aveva tempo infinito non aveva capitale infinito infatti perdeva sempre tutto e a un certo punto lo racconta in questo libro che descrive la tragedia anche psicologica del giocatore del gioco d'azzardo però la descrive in maniera anche matematica perché Dostoevsky tra l'altro sapeva la matematica a differenza di Dostoevsky che la insegnava ai ragazzi appunto della sua tenuta Dostoevsky era un ingegnere aveva studiato ingegneria e aveva fatto l'ingegnere per qualche anno agli inizi quindi scopriamo che dietro ai grandi scrittori spesso ci sono persone che hanno fatto studi scientifici prima ho parlato della divisione tra gli istituti tecnici e i licei spesso i liceali hanno un po' questo atteggiamento diciamo di disprezzo di superiorità nei confronti di coloro che hanno fatto gli istituti tecnici perché dice noi siamo i depositari della vera cultura c'è questo mito che non è affatto vero ma si dice però anche uno che fa il liceo classico poi quando va a fare ingegneria che è ovviamente la facoltà più tecnica e forse più difficile che uno può trovare dice certo agli inizi magari ha un po' di difficoltà ma i migliori ingegneri sono sempre quelli che hanno fatto il liceo classico ma quello è una pia illusione non è affatto vero ma fa piacere dirlo e uno si sente bene invece i fatti sono esattamente il contrario prendete per esempio i premi Nobel della letteratura italiana gli ultimi che ci sono stati dati ad esempio Quasimodo Quasimodo ha preso il premio Nobel ma era un geometra però e Montale Montale anche lui ha preso il premio Nobel per la letteratura ma era un ragioniere che lavorava in banca Dario Fo ha preso il premio Nobel ma ha fatto il liceo artistico uno scopre che se vuole prendere il premio Nobel per la letteratura forse è meglio che faccia gli istituti tecnici invece che il liceo classico però questa è una cosa un po' strana ho parlato brevemente dei legami tra matematica e musica poi ho accennato ai legami tra matematica e letteratura ci sono dei matematici che hanno preso il premio Nobel per la letteratura quelli che ho citato erano appunto geometri ragionieri eccetera matematici per esempio uno è Bertrand Russell che era però anche un filosofo in realtà che l'ho preso nel 1950 un altro interessante che forse qualcuno di voi si sorprenderà di sentire classificato come matematico era Solzhenitsyn tanto per rimanere alla letteratura russa il dissidente che molti ricorderanno che nel 1970 ha preso il premio Nobel per aver scritto l'arcipelago Gulag e non poteva andarlo a ritirare perché i russi gli avevano detto vai pure ma non tornare lui rimase lì e allora non te ne vuoi andare ti buttiamo fuori noi e la buttarono fuori nel 1974 e lui scrive nella sua biografia per la fondazione Nobel dice la matematica mi ha salvato la vita due volte la prima volta quando sono entrato nel Gulag perché lui ovviamente scriveva del Gulag perché c'era stato ed sono entrato che cosa mi hanno fatto fare io ero laureato dice lui in matematica e fisica facevo ricerche e mi hanno messo in quello che lui chiama il primo cerchio per lui il Gulag era un inferno un inferno dantesco però voi sapete che anche l'inferno ha le sue gradazioni si può finire giù nella Giudecca vicino a Lucifero all'ombelico di Lucifero o si può partire dal primo cerchio appunto che certo è pur sempre inferno però il meno inferno che si può arrivare e lui ha scritto un romanzo che si chiama appunto il primo cerchio in cui racconta la vita di qualcuno che è finito nei laboratori di ricerca che facevano alcuni dei carcerati che erano finiti nel Gulag e racconta per esempio di quanto fosse pervertito il sistema sovietico e soprattutto lo stalinismo dell'epoca e faceva un esempio che forse a noi fa pensare e diceva pensate a quanto era perverso Stalin ci chiedeva di fare una cosa che veramente diceva voleva un aggeggio che fotografasse le persone che entravano in una certa porta che magari interessava Stalin tutti coloro che passavano venivano registrati con una fotografia in maniera automatica e di modo che c'era una classificazione si sapeva chi entrava e usciva povero Sol Genitzing adesso è morto ma se guardasse come si entra da noi nelle banche o in qualunque ufficio pubblico penserebbe che qui è molto peggio che lo stalinismo perché tutto viene registrato ci sono le telecamere nelle strade e così via un'altra cosa che lui racconta che si faceva legata alla matematica e tutto questo c'è nel romanzo che anche lì se uno lo legge lo legge come un romanzo di la vita di un carcerato di un detenuto nel Gulag dice Stalin voleva di peggio voleva che quando c'erano delle registrazioni di voci umane che si riuscisse a identificare chi è che aveva parlato e come si doveva fare? beh si doveva fare l'analisi di queste voci come con l'analisi di Fourier che vi ho detto prima si prende quest'onda che rappresenta la voce umana la si decompone si guarda quali sono le componenti e poi si confronta con le componenti della voce umana di questa persona o di quest'altra persona e lui diceva anche questa una cosa terribilmente perversa sono cose che oggi i nostri servizi segreti fanno quotidianamente quindi forse l'idea che noi abbiamo dello stalinismo è un'idea molto ingenua dal punto di vista di Sol Genitzing è molto peggio la vita il monte in cui viviamo noi che non lo stalinismo in cui viveva lui ma a noi interessa invece questo aspetto appunto che ci fosse un matematico che stava dentro Gullag che usava la matematica appunto che gli ha salvato la vita in quel senso perché se non fosse stato un matematico probabilmente sarebbe finito giù in uno dei gironi a fare qualche cosa di molto più pratico spaccare le pietre costruire la ferrovia transiberiana e così via invece no lui faceva queste ricerche e la seconda volta fu quando poi finì gli otto anni a cui era stato condannato e lo mandarono al confino in Siberia e disse lì mi potrei mantenere perché ho insegnato matematica e fisica nelle scuole fino a quando poi non sono stato buttato fuori e sono venuto in occidente quindi vedete anche lì potrei fare anche sulla letteratura andare avanti tutta la sera perché ci sono moltissimi esempi uno dei quali è vivo si chiama Kutsi Koetze non so se voi lo conoscete è uno scrittore sudafricano che adesso vive in Australia il suo più bel romanzo si chiama si intitola Bergogna lui è laureato in matematica e ha preso premio Nobel per la letteratura quindi scopriamo di nuovo che non sono cose così diverse e la matematica sta un po' dentro tutto quale ci sono altre arti adesso qui cerco però veramente di finirla brevemente perché ormai ho parlato un'oretta beh ovviamente la pittura e il modo più ovvio di pensare ai legami tra la matematica e la pittura è quello di guardare a quello che è successo nel Rinascimento quando Brunelleschi nel 1416 decide di disegnare le cose come l'occhio le vede esattamente come l'occhio le vede voi vi chiederete perché prima come disegnavano le persone siamo qui vicini per esempio ad Assisi se voi andate a vedere i dipinti di Assisi e guardate gli affreschi della Basilica Superiore beh vi accorgete che lì Giotto aveva qualche problema perlomeno dal nostro punto di vista le case che disegna Giotto sono case che non stanno mica tanto bene in piedi e come mai beh come mai perché Giotto usava un modo che era quello che avevano già i greci cioè di disegnare come se l'occhio vedesse quello che poi si disegna sulla tela loro dicevano l'occhio è rotondo quindi noi dobbiamo proiettare sulla tela quello che si vede su una superficie rotonda una superficie sferica è quello che si chiama la prospettiva assiale se voi andate nei dipinti di Assisi e tracciate le rette parallele per esempio quando c'è la famosa scena della consegna delle regole di San Francesco al Papa dove sotto ci sono Francesco i francescani che vanno dal Papa a Innocenzo III credo che fosse e gli consegnano la regola voi non guardate quella scena lì che non ci importa ma guardate le travi sopra che fanno vedere le rine parallele del soffitto e se voi congiungete queste linee parallele arrivate a dei punti ebbene nella prospettiva che conosciamo noi quei punti dovrebbero convergere tutti in un unico punto mentre invece quelli di Giotto convergono in punti diversi che stanno su una linea verticale è quello che si chiama la prospettiva assiale che deriva dal fatto di appunto di proiettare le cose come se fossero sul globo oculare e invece come dicevo nel 1416 un secolo dopo Giotto Brunelleschi decide invece di disegnare le cose come l'occhio vede veramente è vero che l'occhio è un globo ma il cervello non vede quello che l'occhio registra bensì lo processa e lo fa diventare qualche cosa di diverso e allora Brunelleschi scopre che tutto converge in un unico punto la prospettiva assiale perlomeno nella sua forma più semplice e da quel momento dagli inizi del 400 fino alla fine dell'800 quando arriveranno in realtà gli impressionisti tutti i pittori qualunque cosa rappresentassero che fossero scene religiose di natura o scene di interni eccetera tutti sempre usavano queste regole e queste regole naturalmente bisogna impararle sono stati scritti agli inizi del 400 interi trattati soprattutto dai primi pittori che usavano queste regole della prospettiva che dovevano essere a loro volta di matematici l'esempio più classico è Piero della Francesca che naturalmente scrisse un trattato sulla prospettiva dei prospettiva pingenti e che fece alcuni dei più belli primi esempi di quadri dipinti in prospettiva e dopo di quello Dürer ad esempio Leon Battista Alberti tanti altri che erano allo stesso tempo matematici e pittori artisti e scienziati nello stesso tempo e per quattro secoli come dicevo cinque secoli tutti i pittori tutti sempre disegnarono in questi modi e soltanto nell'arte moderna furono gli impressionisti i primi a scardinare volutamente tra l'altro queste regole ci sono per esempio a volte gli schizzi di Van Gogh che fanno vedere che lui disegnava in prospettiva perfetta i suoi quadri per esempio la famosa stanza di Arles e poi quando la disegnava invece la rappresentava sulla tela e si vedeva questa stanza che fluttuava nel nulla perché lui lo faceva apposta sapeva come si sarebbe dovuto disegnare ma decideva di non farlo e poi non parliamo i cubisti eccetera l'arte astratta si andrebbe in altre direzioni potrei parlare ancora dei legami tra la matematica e la filosofia in parte l'abbiamo accennato agli inizi con Pitagora molti filosofi sono stati matematici allo stesso tempo Leibniz che ho citato prima è uno di quelli Cartesio il quale ha scritto un discorso sul metodo che viene studiato nei dipartimenti di filosofia e i filosofi si dimenticano sempre che il discorso sul metodo non è un'opera di Cartesio e l'introduzione a un'opera di Cartesio che aveva tre capitoli il primo capitolo dei quali si intitolava geometria e in quel capitolo Cartesio introdusse quella che oggi noi chiamiamo la geometria cartesiana la geometria con gli assi cartesiani le coordinate e così via il discorso sul metodo è l'introduzione e lui diceva in questo discorso diceva noi filosofi dobbiamo pensare in maniera chiara e distinta e chi sono coloro che pensano in maniera chiara e distinta diceva Cartesio siamo noi cioè lui i matematici e allora diceva la filosofia dovrebbe semplicemente seguire le regole della matematica e allora vedete che in questo affresco che ho cercato di fare così un po' velocemente in realtà a ben pensarci non è che uno deve andare con il lanternino a cercare a scoprire quali sono le relazioni fra la matematica e l'umanesimo scopro in realtà che sono relazioni ubique che in realtà sono quasi dappertutto in quasi tutte le arti che si possono immaginare io nel mio lavoro divulgativo lo faccio spesso spesso mi concentro su uno ho fatto tante conferenze con musicisti con orchestra eccetera per far vedere più da vicino i legami tra la matematica e la musica ho fatto tantissime conferenze con immagini video e slide per far vedere la matematica nella pittura nella filosofia a volte mi succede anche di fare la storia della filosofia e vedere quanti filosofi sono stati matematici o perlomeno hanno usato la matematica nel loro lavoro da Platone a Kant cioè questo per sottolineare anche prima ho parlato di Tolstoi per sottolineare che non è che io vado a cercare negli angolini nascosti e trovare qualche balzano pittore o filosofo che usa la matematica no è l'arte o la filosofia mainstream cioè le opere principali e spero che questo vi inciti ad andare a seguire diciamo così queste relazioni tra la matematica e l'umanesimo che ho cercato appunto di abbozzare e che chiamavo nel titolo le relazioni pericolose ma è venuto il momento spero che l'orchestra possa suonare perché è anche venuto il momento credo temo di piovere ma non so cosa si possa fare io sono stato a proposito di musica in un concerto nel 1970 all'isola di White in cui ho visto tutte quelle persone che molte delle quali poi sarebbero morte poco dopo Jim Morrison Janice Joplin e tanti altri e lì si faceva esattamente come a Woodstock quando pioveva avrete visto forse il film di Woodstock del concerto che si era fatto l'anno prima nel 69 in America in questo posto che si chiamava così e quando cominciava a piovere tutti insieme c'è questa scena in cui tutti cantano e urlano no rain no rain quindi io me ne vado ma voi cominciate a cantare no rain ditelo pure in italiano perché qui piove in italiano e speriamo che funzioni e che ci permetta di sentire la musica grazie buonasera